Anche l'uomo puro di cuore, che dice le sue brave preghiere. Allora lo sai. Daniel me l'ha detto. Oh, Larry. Ieri notte ho ucciso un uomo. Non sapevi quel che facevi? Ma l'ho fatto. Volevo uccidere. E sapevo di volerlo. Stasera la luna sorgerà di nuovo. E io diventerò quella bestia. Ucciderò ancora. Il dottor Neiman non può far niente per te. Chiediglielo, Larry, ti prego. Dice che non può. Continua a tergiversare. Non mi fido di lui. Non posso continuare ad attendere, a uccidere e attendere. Io voglio solo l'obbligo, la pace. Voglio aiutarti, Larry. Farò qualsiasi cosa. Quando arriva quel momento, devo uccidere non importa chi. Non lascerò chi accada. Non ti perderò mai di vista. Potrei uccidere anche te. non riuscirei ad impedirmelo. Io non ho paura. È inutile, Ilung. Solo la morte può portarci la pace della mente. È un lupo mannaro. Non muore con facilità. Deve essere ucciso. Ucciso da una pannottola d'argento. E il colpo deve essere sparato da una persona che lo ama così tanto da comprendere. Deve essere ucciso. Ucciso da una pannottola d'argento. E il colpo deve essere sparato da una persona che lo ama così tanto da comprendere.